Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi! Come va? Spero tutto super 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 bene! Come potete notare oggi la location è un po' diversa dal solito Infatti sono qui in cucina per un semplice fatto che voi avrete già capito sia dalla copertina che dal titolo Perché oggi andremo a preparare insieme una torta allo yogurt fredda quindi da frigo L'ho già fatta due volte quindi non c'è due senza tre e devo rifarla perché è buonissima Ma è una sorta di cheesecake perché la base è di biscotto però al busto del Philadelphia diciamo C'è appunto lo yogurt Ora però vi leggo tutti gli ingredienti necessari per la preparazione di questo splendido dolce Allora subito vi dico che servo 200 grammi Di biscotti digestive Che sono questi qui Che dovrebbero essere appunto Burton's Britain Biscuits ok E sono di gran sembra Sono buonissimi Ve li consiglio anche soltanto da prendere per assaggiare Intanto le confezioni da 200 grammi non li troverete Le trovate da 400 e da più Questa è a 400 quindi non andremo a usare la metà E l'altra non mangerò colazione biscotti Poi la confezione fa un suono strepitoso Credo che a registrare questo video mi diverterò molto Poi ci serviranno 12 grammi di gelatina in foglie Che sarebbe la classica colla di pesce Poi ci serviranno 125 grammi di zucchero a velo Quindi una confezione intera Che poi tanto sono tutte dosate a 125 grammi Differentemente dalla marca che andrete a comprare Poi ci serviranno 100 grammi di burro Poi ancora 220 grammi di panna fresca 250 grammi insomma poi andate pure a basarvi Successivamente ci serviranno 750 grammi di yogurt fresco bianco Mi raccomando Poi potete farlo anche alla frutta Carito comunque sia E quindi ne ho preso uno da 500 e due piccoli da 125 Così arriviamo tranquillamente a 750 grammi Questi sono tutti gli ingredienti che ci serviranno per appunto la nostra super ricetta E io direi subito di cominciare andando a spriciolare i nostri biscotti digestive Ok? E aggiungendo poi il burro fuso Quindi spostiamo in quadratura Eccoci qui abbiamo cambiato in quadratura Andiamo a spriciolare la metà dei nostri biscotti digestive Quindi apriamo la confezione innanzitutto Perché se no poco facciamo E cominciamo a spriciolarli E cominciamo a spriciolare la metà dei nostri biscotti Sono molto semplici diciamo da spriciolare Perché sono davvero Malleabili ecco Non sono super super pesanti Comunque sia E' bene spriciolarli molto Molto bene Perché dovranno comporre la base Del nostro super dolce E siamo arrivati ai 200 grammi L'ultimo Allora adesso andiamo a tritarli Meglio Poi Viene roli tritarli Meglio Bene Ora finisco di tritarli un po' meglio Poi andiamo a tagliare il burro Bene Ora abbiamo finito di tritare Al meglio i nostri biscotti Prendiamo il burro Quindi andiamo a tagliare 100 grammi Come potete notare sia un po' ammorbidito Perché l'ho lasciato un po' fuori Così almeno al meglio Ecco Ora questi saranno sicuramente 100 grammi Prendiamo il nostro pentolino Ce lo mettiamo dentro Ed andiamo a scaldarlo sul fuoco Bene Ora andiamo a prendere il nostro burro fuso Che eccolo qui E lo andiamo ad aggiungere ai nostri biscotti Che ho finito di tritare Quindi Prendiamo Facciamo Scolare tutto Bene Poi prendiamo Un cucchiaio E cominciamo A farli amalgapare bene Amalgapare Non potete immaginare il burro fuso Ora che il burro si è appena amalgamato Andiamo a mettere lo strato di biscotti Sulla nostra Tortiera Diciamo che andremo ad utilizzare Mi raccomando Copriamo Il fondo Con lo strato di carta da forno Ok Quindi Mettiamo i nostri biscotti Stendiamo bene Ci vediamoci anche con le mani Che non fa male a nessuno E stendiamo Perfettamente Su tutto Uno strato Tutto intorno Bene Guardate come è venuto bene lo sfondo Il fondo Ora lo andiamo a mettere 15 minuti in frigo Per farlo un po' solidificare E lo metto in frigo E poi noi Iniziamo a preparare il resto Bene Ora come potete notare Ho qui una tazza Dove andremo a mettere a mollo In acqua fredda La nostra gelatina in foglie Quindi Prendiamo acqua fredda La mettiamo nella tazza Ed ora cosa bisogna fare La mettiamo a molla La lasciamo da una parte E mentre si sta Insomma Ammollando Diciamo Cominciamo a preparare il composto Con le yogurt Allora come potete notare Abbiamo qui I nostri fuochi di gelatina Che li sfentoliamo al vento Li prendiamo E li andiamo a mettere A mollo La nostra tazza Come potete vedere E notare Ho cambiato contenitore Perché sulla tazza Tutta la gelatina Non entrava La gelatina Quindi Aggiungiamo altra acqua E cosa facciamo? Tagliamo altre foglie E li mettiamo tutti quanti Con le forbici È la cosa Migliore Mettiamoli a mollo Poi li andremo A tirar fuori Con un cucchiaino Molto semplicemente Vi consiglio Se la prendete Di queste dimensioni La gelatina Di farla Proprio a pezzi Con Le forbici Ora Che è tutta a mollo La lasciamo qua E prepariamo il composto Con lo yogurt Bene Ora pensiamo Alla preparazione Del Nostro composto Di yogurt Zucchera a velo E panna montata Cominciamo a versare I nostri Settecento Cinquanta grammi Di yogurt Bianco Gli togliamo La copertura E versiamolo Tutto Ci aiutiamo Con un Cucchiaio L'avevo portato Non lo trovo più Eccolo qua Ed ora Ci andiamo a versare Anche Gli altri due Uno Che sono quelli Più piccolini E poi Prendiamo L'altro Prendiamo 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 vedete che lo abbiamo svuotato e qui abbiamo il nostro composto di yogurt poi cosa facciamo? prendiamo il nostro zucchero a vero eccolo qui perché non metta a fuoco? ecco e ci andiamo a versare l'intera confezione all'interno ok come potete notare tutto ben collegato ed andiamo a mischiare non con il cucchiaio ma è bensì con una frusta così viene tutto molto meglio prendiamo lateralmente tutto perfettamente bene bene ora prendiamo la ciotola per la panna che la andiamo a montare e poi la aggiungiamo al nostro composto bene ragazzi ora togliamo la nostra gelatina che abbiamo lasciato a morlo la facciamo ben scolare è difficilissimo ragazzi perché è molto 15 grammi bene questa è venuta via diciamo che non è un processo semplicissimo ecco piccolo consiglio che vi do per togliere la gelatina da qua dentro e utilizzare uno scolino così vedrete che la gelatina rimarrà qua e la potete mettere tranquillamente nella tazza e quindi continuiamo a togliere la tutta e poi sul pentolino la mettiamo bene eccoci qui abbiamo il composto yogurt e zucchero e vero qui da una parte ora prendiamo questa ciotola che abbiamo utilizzato per andare a spezzettare i biscotti e ci mettiamo dentro i 250 grammi di panna andiamo ad aprirla bene eccoci qui la andiamo a versare qua dentro poi la andremo a montare con le fruste ma la monto io a parte perché non credo sia un bellissimo suono ecco qua tutta la nostra panna e per montarla al meglio ci andiamo ad aggiungere dello zucchero questo è un segreto che mi ha insegnato mio padre che basta aggiungere un po' di zucchero per farla montare al meglio ma proprio poco senza esagerare bene ora che qui è pronto vado a montarla e poi l'aggiungiamo al composto yogurt e zucchero bene ora ho montato la panna eccola qui e la andiamo a versare con l'aiuto di un bellissimo cucchiaio versiamo tutta qui dentro mi raccomando tutta qui raschiamo lateralmente che poi è davvero scomodissima questa ciotola non la utilizzerò mai più ed ora che abbiamo aggiunto la panna mischiamo un profumo strippitus strippitoso bene ora che siamo al camata aggiungiamo la nostra gelatina che si è sciolita sul fuoco bene rieccoci qui vogliamo amalgamare intanto abbiamo la nostra gelatina interamente sciolta vi faccio una prova vedete come è sciolta bene e ci ha messo davvero pochissimi secondi raggiungiamo al composto ok ed ora mescoliamo tutto bene bene nel frattempo ho tolto dal fricco anche il nostro statocinio di biscotti che è venuto perfetto lo tolto dal fricco perché ci doveva stare giusto 15 minuti come vi avevo detto in precedenza bene ora si dovrebbe essere tutto amalgamato alla perfezione vado a prendere lo stampo così ci versiamo questo dentro mettiamo in frigo e poi vi faccio vedere il dolce finito bene eccoci qui ecco lo strato di biscotti che si è solidificato adesso ci andiamo a versare sentite ci andiamo a versare tutto il nostro composto ecco qua li vediamo guardate che bello ora ho lo spazio già pronto sul frigo mettiamo dentro per tre ore ovviamente anche di più però il minimo deve essere tre ore per far sì che la gelatina faccia effetto e poi vi faccio vedere il dolce finito quindi ci vediamo tra tre ore bene ragazzi bene ragazzi ora è già pomeriggio solo è passato un po' di tempo le tre ore anche più direi ed ecco il nostro bellissimo dolce si è solidificato ben bene ho qui il piatto dove andarlo a mettere quindi ora molto semplicemente tolgo è l'involucro che lo ricopre e vi faccio vedere com'è venuto bene ragazzi l'involucro glielo ho tolto e guardate com'è venuto perfetto si integrà perfettamente con la base di biscotti e sopra vediamo la nostra super base a base di yogurt bianco zucchero a velo e panna e volendo ci si può mettere sopra anche delle fragole a pezzi per ornamertarlo al modo migliore insomma e oppure ci si può mettere anche della marmellata fresca da spalmare sopra per dargli un sapore in più però a me piace così classico bianco quindi credo che lo lascerò proprio così guardate sopra che patina bianca stupendo sono soddisfattissimo del risultato poi ovviamente me lo vado a pappare ci faccio subito merenda bene detto questo ditemi nei commenti se anche voi riproporrete una ricetta del genere quindi questa ricetta che vi lascerò ovviamente in descrizione e credo che questo sia un dolce estivo perfetto detto questo io non posso fare altro che augurarvi una tranquilla gioiosa e serena notte 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 notte